ciao dos video ho tra le mie mani il nuovo album di robbie williams heavy entertainment show questa qua è la deluxe version che include cinque canzoni bonus dice il behind the scene dvd ossia c'è un dvd del dietro le quinte guardate in questa fascetta qua allegata ci dicono strong language allora sedici tracce conta sedici tracce il disco e di cui heavy entertainment show che la prima poi c'è party like russian il uno dei singoli che va per la maggiore che si sente sempre per radio poi c'è mixes annuals poi c'è love my life che è il secondo singolo estratto dal disco poi c'è mother fuck potrebbe essere una delle canzoni per cui c'è strong language qua nella nella fascetta che c'era poi bruce lee una canzone si chiama bruce lee io il disco devo ancora ascoltare mi è appena arrivato sensitive poi david song pretty woman sarà mica una cover pretty woman ok vabbè dai hotel crazy fiturin arofus wainwright poi c'è sensational time on earth i don't want to hurt you fiturin john grant e poi c'è best intention e poi marry me e l'album e vi dico ci sono le immagini vedete che lui è tipo pugile vedete qua che sta gli stan togliendo la la vestaglia da pugile ci sono anche questi testi delle canzoni meno male che hanno ripreso mettere i testi un po qua vedete qua che sempre le immagini dove dove è sul ring praticamente vedete qua c'è questa immagine che lotta contro se stesso no quindi è tutta immagino una metafora il nostro peggior nemico a volte siamo noi stessi quindi dobbiamo oltre che lottare col mondo e le avversità che ci ci sbattono contro tante volte dobbiamo lottare tante volte sempre nella nostra vita dobbiamo lottare anche contro noi stessi perché non forse non ci conosciamo mai fino in fondo non lo so comunque vabbè adesso non 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 indaghiamo su cosa comunque diciamo che qua sono delle immagini con lui sopra un ring dove lotta e praticamente lotta contro se stesso mi piace molto come è stato curato perché vedete è come se ci fosse una progressione immagini vedete qua adesso c'è il pugno in alto qua di robbie quindi ha vinto perché in questa foto si vede qua disteso in terra per esempio uno dei due mentre l'altro è il pugno alzati e e chissà che che ha vinto che che parte di robbie williams ha vinto insomma ci potremmo chiedere noi ma forse ascoltando il disco capiremo capiremo meglio tutto io penso che si è intesa anche come una sfida come una lotta una lotta questa era una sfida contro il tempo contro l'avversità e dire io sono qui e sto ancora in piedi e sono vincente rimango un vincente ecco uno la può interpretare come vuole poi vi dico io adesso l'album lo devo ascoltare per bene ma che dire ci andiamo a ballare party like russia mi piace molto con il fatto robbie williams usa spesso questi sample diciamo queste parti del brano di altre canzoni per esempio questo pezzo ha messo l'autore russo che mi piace perché anche in altre canzoni magari si ritrovava un pezzetto di a we survive oppure utilizza dei sample in una maniera molto furba devo dire perché uno un po questo fatto di già sentito all'interno della sua canzone ti rimane molto impresso perché tu c'è una è ancora più orecchiavile perché ti rimangono quelle note lì che ti erano già impresse da prima magari di canzoni anche molto popolari e quindi all'interno così c'è niente riesce a sfruttarne molto molto bene queste cose e devo dire che lui è un bravo bravo un bravo entertainer bravo performer complimenti robbie che fai sempre nelle canzoni pop da sempre davvero belle ecco ciao